Lo scorso anno un'agenzia di viaggi ha raccolto dati sul numero di biglietti singoli venduti per una crociera nel Mediterraneo. I dati mensili sono mostrati qui sotto da questa freccetta gialla. Quali sono stati il mese migliore e quello peggiore per le vendite della crociera? Abbiamo questo diagramma che viene chiamato grafico a torta, perché in effetti sembra una torta tagliata a fette. A volte viene anche chiamato diagramma circolare, ma io preferisco di gran lunga grafico a torta. E questo diagramma mostra le vendite mensili, perciò ciascuna fetta rappresenta le vendite in un certo mese. Ad esempio questa fetta blu rappresenta le vendite di gennaio. Nel grafico a torta le fette più grandi rappresentano una frazione più grande e quelle più piccole una frazione più piccola. Ad esempio a gennaio è stato venduto il 18% dei biglietti. Se sommiamo tutte queste percentuali otterremo dunque il 100%. A gennaio è stato venduto il 18% dei biglietti, quindi la fetta che rappresenta gennaio copre esattamente il 18% dell'area dell'intera torta. È il 18% della torta. Se mangi questa fetta stai mangiando il 18% della torta. Ma ora pensiamo alla domanda. Quali sono stati il mese migliore e quello peggiore per le vendite della crociera? Il mese migliore sarà ovviamente quello in cui hanno venduto la percentuale più grande di biglietti. Ed ecco il bello dei grafici a torta. Non c'è bisogno di guardare tutti i numeri. È evidente che gennaio è la fetta più grande della torta. Anche senza leggere e senza guardare i numeri sai subito dire che la fetta più grande di questa torta è ovviamente gennaio. Perciò gennaio è stato il mese migliore per le vendite della crociera perché hanno venduto il 18% dei biglietti. E in effetti 18% è anche la percentuale più grande che troviamo qui sopra. Ma lo vediamo chiaramente dal grafico. È la fetta più grande, questa blu. Ma passiamo alla seconda parte della domanda. Qual è stato il mese peggiore per le vendite della crociera? Per scoprire il mese peggiore dobbiamo trovare la fetta più piccola della torta. E se guardiamo con attenzione qui in basso ci sono le fette più piccole. Giugno, luglio e anche maggio. Ma le due più piccole sono giugno e luglio. E in questo caso i numeri ci tornano utili perché a occhio non riusciamo a stabilire se queste fette sono esattamente uguali oppure no. Perciò in questo caso è utile guardare i numeri. E vediamo che giugno e luglio hanno la stessa percentuale. Sia giugno che a luglio sono stati venduti solo il 3% dei biglietti. Perciò sono a pari merito tra i mesi peggiori. I mesi peggiori per le vendite della crociera sono dunque giugno e luglio. E li scrivo. Il mese migliore è chiaramente gennaio. Dopo gennaio il secondo mese migliore beh non ce lo chiedono ma avendo il grafico davanti è facile dire che novembre al 13% è andato leggermente meglio di dicembre al 12. In generale è chiaro che le vendite per la crociera siano andate molto meglio nei mesi invernali rispetto a quelli estivi.